Il punteggio nel match ha una influenza importante non solo nelle azioni di cubo, ma anche nella scelta della mossa migliore, soprattutto in situazioni gemmonish e col cubo già a livello maggiore di 1, quindi non più al centro. In questi casi ovviamente il giocatore in svantaggio è avvantaggiato dal fatto che il cubo sia a livello maggiore e che la situazione sia gemmonish, ma non è facile stabilire quanto. La situazione che vedete a video è una situazione di questo genere. In vantaggio per 6 a 0, col cubo a 2 in mano, devo decidere tra una opzione che mi dà più possibilità di vittoria, più possibilità di gemmon, ma anche più possibilità di gemmon all'avversario, oppure una mossa più tranquilla. Vediamo come ho ragionato in partita. 6-1, il 6 è obbligato. Potrei colpire la seconda pedina, rischiando ovviamente tanto per il gemmon. Però secondo me devo colpire... Nooo, doppio. Allora, la scelta che ho fatto è la scelta corretta in caso di punteggio pari. Ma su questo scorro, questa situazione, è assolutamente un errore. Vediamo che cosa ci dice XG. Vedete che è un blunder da oltre 100. perché è vero che aumentano le mie possibilità di vittoria e di gemmon, ma aumentano ancora di più le possibilità di gemmon dell'avversario e sul punteggio di 6-0 il valore del gemmon per l'avversario è molto maggiore del gemmon per me. Però non è facile riuscire ad avere la sensibilità corretta per queste differenze. Ed è questo un punto che devo sicuramente migliorare.